Arrestati tre pusher ventenni per spaccio di stupefacenti dalla Guardia di Finanza di Vicenza che ha sequestrato oltre 160 dosi di cocaina e 5.000 euro in contanti. La base operativa del gruppo, composto da un italiano, un russo e un albanese, era nel quartiere dei ferrovieri in città. Nel caso di specie noi abbiamo sequestrato circa 160 dosi di stupefacenti che poi era assemblato in quello che in gergo viene definito un sasso di cocaina. Le successive perquisizioni che sono state estese nelle abitazioni, nella disponibilità dei tre pusher, quindi sia Schio sia Stontorso che in due abitazioni, SITE, in zona stazione e in zona ferroviaria di Vicenza, hanno permesso poi di circostanziare meglio le ipotesi investigative. Abbiamo rinvenuto il classico materiale da confezionamento, bilancino piuttosto che materiale da taglio. Abbiamo sequestrato gli smartphone da analizzare e abbiamo sequestrato poi alla fine tutti e tre i pusher un totale di circa 5.000 euro in contanti. Droga che partiva dal capoluogo verso la provincia, diretta ai mercati di Vicenza, Schio e Storso, è destinata, secondo le indagini, ad un pubblico per lo più giovanile. I tre ventenni che abbiamo tratti in arresto avevano una clientela composta per lo più da coetani e si muovevano per spacciare nei bar, nelle piazze, nelle strade, non soltanto di Vicenza, ma anche di Schio e di Storso. Vorrei evidenziare in questo caso come arrestare gli spacciatori, forse ancora più del sequestro di droga, consente sostanzialmente di allontanare dalle nostre strade, dalle nostre piazze, coloro che mettono in contatto i ragazzi col mondo della droga.